Ciao ragazzi, eccoci qui di Sundance Utah. Vedete chi è il proprietario di questo posto? No, ben reddolo. Questa è qui dietro di me, Park City, Main Street. Ciao a tutti da The Iconic Egyptian Theatre in Park City. Ciao, ecco il teatro dietro di me, teatro egiziano, famosissimo qui a Park City, Utah. Ecco un'opera di Banksy. Ecco un'opera di Banksy. Ecco un'opera di Banksy. E' la più famosa bar in Park City. Ecco un'opera di Banksy. iniziati a visit, E' un tipo di tramp che si usa In Utah Ecco, Temple Square Semplexità E' un tipo di trampolini Un tipo di trampolini Un tipo di trampolini